ciao a tutti ragazzi ben ritrovati saluti da mister nino trattino basso dnt canale youtube la recensione di oggi è l'atomizzatore di casa smoke il tfv 12 atomizzatore quindi prestante con la standard kit quindi tre coil pre made nella confezione due quad coil e una 12 coil io sto svapando ragazzi con la quad coil perché credo a mio parere che sia veramente molto performante ma andiamola a vedere da vicino questa è la confezione del tfv 12 cloud best king ragazzi nella parte superiore quindi c'è raffigurata appunto la figura dell'atomizzatore nella parte laterale quindi le tre coil presenti nella confezione nella parte posteriore il contenuto della scatola e le specifiche quindi dell'atomizzatore andandola ad aprire come smoke ci ha abituato cofanetto atomizzatore quindi il rilievo nella parte superiore codice di autentificazione semplice quindi libricino di istruzioni dove da una parte ci indicherà il contenuto le tre coil presente e le specifiche l'atomizzatore sezionato e come si effettua il refill sacchettino quindi di o-ring di ricambio perché di default l'atomizzatore le ha rosse quindi o-ring di ricambio adattatore quindi per drip tip per attacco 510 e la seconda piastrina in silicone dove si effettua si effettuerà ragazzi il refill due o-ring in silicone una black e una red a protezione quindi del nostro tank secondo tank glass in vetro di riserva qualora inconvenienti o qualsiasi cosa e ragazzi le due coil la prima è una per 4 0 15 ohm sopra ci sono scritte tutte le specifiche del caso ragazzi è una vertical in parallel 0,15 ohm dove danno le info che tra 60 e 190 lavora bene ma dà il suo meglio tra 90 e 160 la seconda coil ragazzi anche questa è una quad coil 0 15 ohm dove le specifiche riportano che lavora tra 60 e 200 watt ma dà il meglio quindi il suo best tra 90 e 130 infine andiamo a vedere l'atomizzatore eccolo qui ragazzi TFV12 da un rapido confronto questo nuovo atomizzatore il TFV12 ha un diametro di 3,5 mm maggiore rispetto al TFV8 che ne aveva 24,5 il sistema dell'airflow quindi è maggiore ragazzi del 30% le misure dell'atomizzatore ragazzi sono 25 mm alla base a salire troviamo 27 mm lungo tutta la parte del tank e arriverà quindi a 28 mm in queste parti proprio qui dove ragazzi c'è la scritta SMOK arriverà quindi a 28 mm la tip è amovibile quindi la possiamo levare e possiamo quindi inserire una tip adatta al TFV8 perché sono compatibili una miglioria che è stata fatta ragazzi hanno ingrandito quindi il buco questi hole per fare il refill perché nelle precedenti versioni era più stretto e non si riusciva quindi a fare il refill con tutte le boccettine adesso con delle twisted per esempio è possibile effettuare il refill senza quindi sporcare tutto l'atomizzatore rimane quindi costante l'apertura a scatto che la trovo molto comoda andando quindi a smontare l'atomizzatore vi faccio vedere l'ultima coil presente l'ultima coil ragazzi ve la faccio vedere è la V12 ovvero 12 coil resistenza da 0,12 le cui specifiche sono lavorerà tra 60 e dichiara ragazzi dico dichiara fino a 350 watt ma darà il meglio quindi il best tra 130 e 200 watt un'altra cosa ragazzi sarà il pin vi faccio vedere l'atomizzatore quindi da sotto il pin non è a taglio quindi non è regolabile ma è comunque aggiustabile adesso io lo spingo dentro vedete ragazzi qui è paro con l'avvitamento quindi della coil il pin sbatterà su questa parte metallica e uscirà fuori quindi dalla base ed andrà quindi ad essere sporgente il quale ci farà contatto con tutte le nostre basi o le nostre box ecco qua e non ci creerà assolutamente nessun problema quindi rimontando l'atomizzatore rimane invariato quindi il cap superiore che andrà avvitato quindi sulla coil le dimensioni ragazzi le abbiamo viste per una capienza di 6 ml la capacità del tank l'atomizzatore è costruito completamente in acciaio inossidabile il vetro è rinforzato e resistente alle alte temperature il top refill come vi ho fatto vedere quindi è con un grosso buco la base quindi dell'airflow è parecchio grande e quindi ci aiuterà notevolmente a non far scaldare troppo le coil anche se ragazzi vi devo dire che utilizzando la 12 coil si surriscalderà parecchio sia l'atomizzatore che la box e a me questo discorso quindi non è che sia piaciuto tanto adesso avendo provato io in negozio personalmente ragazzi la 12 coil e vi devo dire che non mi ha entusiasmato per niente vi dico perché è stata progettata per fare tanto vapore e sono d'accordo ma di tutto quel vapore che fa ragazzi te ne fa vapore caldo che a me non piace svapare ad alte temperature quindi stavamo intorno ai 180 watt e non mi piaceva l'aroma ragazzi non riusciva a sentirlo quindi vorrei evitare di fare la recensione con un prodotto che non mi quadra che non mi gusta e invece vi assicuro che montando le due quad coil quindi una delle due l'atomizzatore sarà veramente performante creerà sì tanto vapore ma rilascerà quindi anche un'ottima aroma ed è per questo che voglio utilizzare la quad coil quindi inizializzazione ragazzi della coil andremo quindi a bagnare le aperture e internamente la coil prendiamo quindi una box daremo delle micro attivazioni quindi rimettiamo il tank chiudo l'aria per effettuare quindi ragazzi il refill per non avere quindi problemi vi faccio vedere con le classiche boccettine che non abbiamo nessun problema ad effettuare ragazzi il refill il liquido entra tutto e non esce lasciamo quindi qualche secondo che il cotone interagisca con il nostro liquido ragazzi e ci andiamo a fare una svavata e le considerazioni finali a tra poco eccoci qui amici Vapers ben ritrovati quindi TF V12 ragazzi atomizzatore cloud best king e come potete vedere ragazzi con una resistenza quindi con una coil prefatta quad coil da 0,15 ohm lavora veramente molto bene ottima la produzione di vapore e il rilascio di aroma ragazzi è veramente gradevole io sto svapando quindi un boss, reserve, ricetta quindi clone vogliamo chiamare così conosco bene il mio liquido perché lo svapo in continuazione e vi devo dire che quindi rilascia veramente un buon aroma l'atomizzatore si comporta bene ha un buonissimo air flow quindi buonissimo il passaggio dell'aria e la coil quindi non scalda tantissimo ricordo che ho provato la 12 coil e a parere mio personale non mi era piaciuta tanto per carità una grandissima produzione di vapore ma e dico ma al quinto o al sesto l'ho provato in negozio ragazzi l'ho provato in negozio prima di fare l'acquisto l'amico mi ha detto Nino fate due diri vedi come va eccetera eccetera e sinceramente volendo giocare quindi a fare nuvoloni è un'ottima coil ma dovendo trovare un giusto rapporto tra vapore e aroma ragazzi non mi era piaciuto tanto per questo ho voluto fare la recensione con una coil di minore dimensione rispetto agli ohm questa è una quad coil da 0,15 ohm ragazzi e si comporta ragazzi veramente molto bene quindi TFV12 alcuni miglioramenti ragazzi sono stati fatti la capacità quindi rimane sempre dei 6 ml hanno migliorato il top refill il sistema dell'airflow è migliore il tank quindi è più grosso sotto vi dicevo ha una base da 25 mm questo perché Smok ha pensato alla maggior parte degli utenti che pensano anche all'estetica quindi poter montare un atomizzatore con base quindi 25 sarà compatibile su tutte le box in commercio senza che fornendo quindi direttamente alla base un 27 barra 28 potesse uscire o sbordare quindi proposta commerciale alla base 25 diventa 27 intorno alla parte del tank e si ingrandisce quindi di un millimetro arrivando a 28 in queste due parti che abbiamo visto in precedenza prodotto quindi ragazzi fatto bene e di qualità come Smok ci ha mostrato nelle sue precedenti versioni parliamo del prezzo di vendita ragazzi nei nostri shop si aggira dalle 38 offerta che troviamo alle 42-44 euro bene adesso il prodotto è appena uscito e a questo prezzo probabilmente con il passare del tempo riusciremo a trovare un prezzo abbastanza adeguato voi che dite ragazzi è alto? comunque atomizzatore ragazzi a mio parere performante adesso ragazzi mister nino ha detto la mia ditemi la vostra ragazzi commentate alla fine sul video su youtube e ditemi cosa ne pensate del nuovo TFV12 io ho preso la standard kit quindi quella con le tre coil perché al momento della commercializzazione Smok ha messo in circolazione solo questo modello successivamente sarà in vendita e quindi sarà facilmente reperibile presso tutti gli shop la versione quindi con RBA allora ragazzi un like se il video vi è piaciuto se vi è stato di vostro gradimento o se mister nino è riuscito ad intrattenervi con questo video vi invito a iscrivervi al mio canale youtube only svapo ragazzi qualora non siete iscritti io vi saluto tutti quanti ragazzi e vi ringrazio ci vediamo alla mia prossima recensione e vi ringrazio